10 vai destra 2, 20 sinistra 2, in sinistra 2 più 50 al muro destra 1 più 80 tornante sinistro lungo o 30 tornante destro sale 50 destra 4, in destra 4 più occhio sinistra 1, cambio strada sale 100 destra 1, cambio strada 20 destra 2, ingresso parcheggio 100 inversione a U sinistra 100 inversione a U destra 100 destra 3 sul ponte, occhio entrato a sinistra 1 chicano più rallentamento 30 sinistra 4 lunga 30 sinistra 4, 80 destra 4 più 150 attenzione chicane entrata sinistra 150 destra 3 meno per sinistra 3 meno meno per sinistra 3 meno meno in destra 4, 30 sinistra 3 più in destra 3 più più 50 sinistra 2 più più con strettoia 30 sinistra 4, 80 accenno sinistro 50 destra 2 più più 100 6 sulla sinistra rallentamento ingresso sinistro confine destra uscita destra 20 destra 3, 30 destra 3 per sinistra 4, 80 sinistra 4 più 30 sinistra 4 meno meno lunga lunga 50 accenno destro per sinistra 3 meno meno chiude alla fine 50 destra 4, 30 destra 4 più in sinistra 3 lunga due tempi 50 destra 3 meno meno per sinistra 3, 30 destra 3 per sinistra 3, 30 accenno sinistro per destra 3 più più lunga in sinistra 3 meno meno chiude 30 accenno destro in destra 5, 80 sinistra 2 più gira questa è destra 5 destra 2 più gira 50 sinistra 4, 80 sinistra 4, attenzione subito destra 3, 30 alle zebbre sinistra 3 meno lunga in destra 4 più al rovescio giallo sinistra 3 più lunga lunga diventa 4 destra 4 più si destra destra 4 più vai al rovescio giallo sinistra 3 più lunga lunga che diventa 4 accenno destro vai all'inversione vai all'inversione strettoia che ci sta qua destra 2 con salto sinistra 1 destra 2 salta occhio in destra 3 per cambio strada 30 vai 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 sinistra 5 30 in accenno destro vai 50 occhio chicane entrata sinistra 50 50 50 destra 3 meno meno occhio scivola 30 accenno sinistro per destra 3 meno meno 30 sinistra 4 80 sinistra 3 più 50 in accenno sinistro per subito per subito molta attenzione destra 3 meno meno in sinistra 3 attenzione destra 2 più 30 sinistra 4 per accenno destro per accenno sinistro per accenno destro per accenno sinistro in destra 4 meno meno 30 sinistra 4 lunga destra 4 sinistra 4 lunga chiude 3 alla porta 30 destra 2 più sul ponte 100 100 alla cabina accenno sinistro 50 accenno sinistro 50 sinistra 3 lunga 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 per destra 3 meno meno lunghissima in sinistra 3 più che diventa 4 in uscita 50 destra 3 lunga che diventa 4 in uscita 50 accenno destro eh ci stanno più freni eh no freni sinistra 3 lunga lunga apri uscita mi freni porco Dio destra 4 più 30 mi freni mi freni mi freni mi freni come freni non freni più dammi da sopra destra 4 meno 30 sinistra 4 più porco Dio porco Dio 30 air rail sinistra 5 30 si abbi l'olio eh c'è la madonna per destra 4 meno 30 sinistra 3 lunga 30 destra 4 sul ponte 80 occhio a rovescio rosso destra 2 meno meno 30 sinistra 2 lunga lunga in destra 1 20 20 8 22 l'ho scorta secondo giro l'hanno suggerito fatto 8.05 61 cicano quando fatti 7.37 porco Dio 7.40 ora vediamo magari abbiamo fatto di meno 8.46 6.75 10